Turismo Bergamo Turismo Bergamo è un'agenzia compartecipata che ha con obiettivo la promozione del territorio, sia della città che di tutta la provincia. Oggi ci troviamo a Bratislava a seguito di un'iniziativa in accordo di programma, accordo di programma stipulato tra la regione Lombardia e il sistema camerale. È un progetto che porta in piazza la promozione generale della regione Lombardia. L'obiettivo principale è proprio quello di far conoscere direttamente all'utente, al pubblico, la nostra regione e quelle che sono le eccellenze e le possibilità di visita e di soggiorno. Siamo partiti, questo prevede il coinvolgimento di 22 città in 8 nazioni, siamo partiti dalla Spagna il 5 di giugno, siamo andati a Siviglia, poi abbiamo toccato Malaga, siamo stati a Alicante, a Barcellona, a Valencia, abbiamo proseguito poi a Barsiglia, Metz, Digione, Lione, siamo arrivati a Lussemburgo, poi siamo entrati in Germania a Saarbrücken, siamo scesi in Austria, a Innsbruck, Graz, Linz e oggi ci troviamo per l'appunto a Bratislava per poi proseguire per Cossice. Entriamo qui in Polonia, andiamo a Cracovia, a Katowice, a Wrocław, a Poznan, per tornare poi a Repubblica Ceca, a Bernon, a Praga e a Pinsa. Questo diciamo è un po' il giro. Ecco, in questa occasione abbiamo realizzato un materiale ad hoc, per cui abbiamo realizzato una cartina turistica in tutte le lingue, in 8 lingue, incluso lo slovacco naturalmente, e a questa cartina turistica, questa mappa turistica, abbiamo abbinato il Discover Lombardy che in pratica dà uno spaccato, dà uno spaccato di quelle che sono le 12 province lombarde, per cui qua riusciamo già ad avere un'idea e poi la riportiamo attraverso internet, però già qua l'utente ha un'idea di che cosa può offrire la Lombardy. Il nostro slogan è l'invito a scoprire la Lombardy, lo portiamo direttamente a casa tua, da cui viene a rincontrarci nelle piazze dove, come oggi, ci troviamo in questa piazza.